Allora, noi siamo, vi faccio vedere, in questo momento c'è già una nuova roulotte, che non si chiama roulotte, si chiama, fammi vedere, Airstream, Airstream a Milano, perché? Perché Fiat è partner del tour di Giovanotti, Fiat con Fiat Music, faremo delle date, facciamo tutte le date del tour con Airstream, però adesso vediamo, vediamo subito, il nostro inviato, poi vi farò vedere le foto, è Francesco Maione, visto che non potevo andare a Milano, mi ha fatto lui da inviato, ed ecco qua, questo è Francesco Maione che è responsabile di questi eventi del rapporto Fiat Music con Fiat, ed è della Fiat, guardate questa cosa, eccolo qua. Eccoci qua, ciao Red, hai visto, ormai sono diventato anche un inviato speciale, guarda un po' dove è arrivato il nostro Fiat Music, Lorenzo Live 2018, eccoci qua Red, questo è il nostro Airstream, con cui saremo a tutte le tappe del tour di Lorenzo Giovanotti, ma vediamo all'interno, salutate ragazze che c'è Red, allora qui sarà possibile farsi un bel selfie, qui ovviamente ci sono le nostre star, perché all'interno del nostro Airstream, aspetta che lo apro eh, e questo è il nostro Fiat Music Studio, che è diventato più grande, è qui all'interno Red e non solo, ascolterà i nostri amici. Come vedete la rullottina si è ampliata per l'occasione. Comunque poi adesso c'è l'ultima parte del video, comunque tranquilli perché noi siamo affezionati alla nostra rullottina, al nostro Fiat Music Studio, questo Airstream enorme, che io lo chiamo Siluro di metallo, ci sarà soltanto per il tour di Giovanotti, poi spiego che cosa accadrà nel tour di Giovanotti, intanto qualcosa lo dice Francesco, proprio dall'Airstream, dov'è stasera, perché stasera inizia il tour di Giovanotti, eccolo qua Francesco. Rieccoci, allora ragazzi Red, vi aspettiamo a tutte le tappe del Lorenzo Live 2018, perché qui potete registrare le vostre audizioni e sarà Red ad ascoltarle. Poi in quattro tappe, anzi cinque, che Red vi comunicherà, sarà possibile ovviamente incontrarlo direttamente e ricevere i suoi consigli. Red, dì tu però qual è l'opportunità che potranno vivere tutti i nostri amici. Grazie Francesco per questo collegamento. Mentre io faccio vedere delle foto dell'Airstream come allestito, guardate queste sono le foto, alcune foto dell'Airstream qui e fuori, era stata fatta oggi, vedete Lorenzo 2018, l'Airstream dove si può andare, si può fare le foto, ma soprattutto per gli artisti e gruppi della nuova era, qui sono in questo momento nel forum di Assago, Lorenzo, eccoci qua. Allora, dicevo, per gli artisti e gruppi della nuova era è possibile andare tutti i giorni in cui c'è il tour di Giovanotti. Io sarò presente a qualche tappa, quindi a qualche tappa faremo quello che ho fatto a Sanremo, quindi incontrerò, filmerò, cercheremo di andare in diretta anche se forse non è facile, però dipende dalle connessioni che riusciamo a trovare. Però l'altra opportunità è incredibile che alcuni artisti, non molti, diciamo tre di sicuro, tre artisti di Fiat Music, cioè tre artisti usciti da Fiat Music, li porteremo sul palco di Giovanotti, uno sicuramente all'Arena di Verona, poi adesso vediamo dove, prima di Lorenzo si esibiranno. Quindi questa è una, credo, una grande opportunità per Fiat Music. Questo è il proseguo di Fiat Music, poi avremo altri appuntamenti, però intanto ci concentreremo sulle tappe del tour di Lorenzo. Grazie a tutti.